Ecco l'entrata in campo delle due squadre, ventitresima giornata del campionato provinciale giovanissima, Virtus Castelfrentano, Valle Aventino, l'arbitro è il signor Cocco della sezione Aia di Lancia. Scegliere la tasta, quindi a voi cedete il campo e lo tagliamo verso lì. Ok, perfetto, passate prima voi così ci salutiamo tutti. Al lupo! 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 I ragazzi si scampino a salutare i rispettivi avversari della panchina. Al lupo! 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 Ok, un po' al lupo, un po' al lupo, un po' al lupo, un po' al lupo.